Come risolvere i problemi di connessione su Windows 11 e su Windows 10 Quindi ragazzi bentornati in questo nuovo tutorial per i nuovi iscritti Ovviamente per risolvere questi problemi di connessione serve solamente un aggiornamento del driver Sia per il cavo LAN che per la vostra connessione Wi-Fi Ovviamente adesso vi spiego meglio Se andiamo un attimo su impostazioni rete e internet Impostazioni di rete avanzate Questo è il cavo LAN e questo invece direttamente la connessione Wi-Fi senza fili Ovviamente io ho tip link wireless NPCI Express l'adattatore Se io adesso vado un attimo su Chrome e scrivo il mio driver tip link wireless Scrivo tip link ovviamente perché non va la connessione perché serve per forza un nuovo aggiornamento Per questo adattatore Quindi tip wireless tip link Wireless NPCI Express adattatore Ed eccolo qua Questa è la mia scheda di rete che non uso mai perché io sinceramente uso più il cavo LAN Quindi se vado un attimo a scrivere a fianco driver Vado su scarica per TL questo qua tip link Italia E da qui io posso scaricare il driver L'ultimo driver più aggiornato per la mia scheda di rete Ok? Invece per quelli che hanno il cavo LAN che va inserito nella MOBO Quindi nella scheda madre Per esempio io ho scaricato questo PCI per il cavo LAN Che è sulla mia scheda madre Ovviamente la mia scheda madre è B450 Gaming Plus Questa è la mia scheda madre Quindi se voi avete una scheda madre come questa Quelle più aggiornate Quelle degli ultimi anni Tipo 2-3 anni gli ultimi anni Quindi cercate la vostra scheda madre Cercate di trovare questo tipo di interfaccia andando su driver Dovete per forza cercare i driver Eccoli qua Se avete una scheda madre AMD sicuramente ci sarà questa schermata Per quelli di Intel è un'altra storia Però dovete per forza scaricarvi un driver per aggiornare il vostro cavo LAN Quindi questo è per il processore Questo è per la scheda video E questo invece per il LAN Ok? E se invece avete problemi di audio C'è anche il driver per l'audio Per questa scheda madre La mia, vabbè Per la vostra Se avete AMD E qui c'è LAN Drivers Io scarico il mio driver Questo qua Ecco il mio ultimo driver aggiornato di dicembre Mi sembra 22 dicembre 2022 Clicco sopra E faccio in modo di aggiornare il mio cavo LAN Io ovviamente l'ho fatto già prima Perché proprio oggi ho avuto problemi di connessione con il cavo LAN Adesso tutto si è sistemato Quindi se avete una buona connessione Non so, avete avuto una buona connessione per un anno, anni e mezzo Poi dopo un po' comincia ad avere problemi Non è il modem, non è una connessione di rete Può essere driver obsoleti che vanno aggiornati Faccio annulla perché non mi serve adesso Faccio fine, sì E poi fate anche uno speed test Per vedere un po' quanto fate di connessione Quindi faccio su speed test Guardate sul mio speed test Pesso speed test questo qua Un test E vediamo la mia connessione Ed eccola qua Fino a 100 MB Vabbè poi di upload è fino a 20 Poi una volta fatto tutto questo procedimento Andiamo un attimo su impostazione di rete e internet Impostazione di rete e internet Impostazione di rete avanzate Io ovviamente disabilito così la mia wifi perché non mi serve Uso di più il cavo LAN come ho detto prima Più opzioni per la scheda di rete Eccola qua Faccio su proprietà Vado su protocollo internet versione 4 E comincio a utilizzare i seguenti indirizzi server DNS Quindi 8888 Mettete anche il server DNS alternativo 8844 Sono i migliori server DNS perché molti li usano Molti hanno anche fatto di tutorial e hanno usato questi server DNS Perché sono molto molto comodi Faccio ok E chiudo Un'altra cosa che potete fare sulla vostra scheda di rete Il cavo LAN è andare un attimo su gestione dispositivi Trovare la vostra scheda di rete Ad esempio tip link wireless NPC Questa qua è la mia scheda di rete Come potete vedere c'è una freccia in basso Perché devo abilitare il mio dispositivo Perché l'ho disabilitato prima Quindi io non lo abilito Perché non mi serve Questo invece è per il cavo LAN Per attaccare il cavo LAN Se no se non c'è questo non posso metterlo Se in questo caso avete problemi Vi consiglio di fare un aggiornamento driver Oppure disabilitare il dispositivo Riabilitarlo e riavviare così il vostro PC Ovviamente ragazzi Sempre per problemi Controllate sempre gli aggiornamenti Più prilasciati da AMD oppure Intel E ragazzi Spero tanto di esservi stato d'aiuto E noi ragazzi ci vediamo Ad un prossimo tutorial Ciao Ciao